gentili telespettatori buona giornata mario draghi ha preso il covid ma è asintomatico l'ha scoperto per caso non ha nessun sintomo e allora arriva fabrizio pregliasco che tira fuori la terapia per il premier parla in radio pregliasco e delinea la terapia per il premier dice draghi il risultato positivo è il virologo dà consigli al presidente del consiglio quello è il presidente del consiglio e lui gli dà i consigli al presidente del consiglio insomma dice così pregliasco che dà consigli il vaccino efficace e sulle forme gravi mentre la copertura ha qualche riduzione nell'arco dei mesi tanto che neanche la guarigione garantisce protezioni a vita così a rai radio 1 ospite di un giorno da pecora fabrizio pregliasco che è direttore del galeazzi di milano dell'istituto ortopedico dice è probabile che draghi ha preso omicron 3 omicron 3 omicron 3 ma da dove arriva omicron 3 ora deve fare almeno sette giorni di isolamento e gli consiglierei di prendere antinfiammatori due volte al giorno anche se asintomatico quindi gli ha fatto la ricettina così va in farmacia dice pregliasco mi ha fatto mi ha fatto la ricetta io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata